Musica Benvenuti a Bologna Colori, buon mercoledì, iniziamo la nostra diretta dedicata alla città, ai suoi colori, alle sue sfumature, ma Bologna in realtà è quest'oggi soltanto un punto di partenza per un viaggio ideale che ci porta in America Latina, ci porta in Messico e lo fa tra le pagine di un libro in realtà, quindi davvero un viaggio speciale. Ad accompagnarci è Pino Cacucci, benvenuto. Grazie. Amico di TRC. Sì, è sempre un piacere tornare qui. Ecco, questa volta torni perché hai un nuovo libro da presentare, poi racconteremo anche un po', daremo qualche appuntamento. Sì, mi sono inventato un nuovo pretesto, come vedi, sono di nuovo qua. Però, appunto, sicuramente l'occasione, adesso partiamo da questo tuo nuovo lavoro, però naturalmente abbiamo lo spunto per conoscere questo paese così ricco di sfumature, molto sfaccettato, che è, insomma, davvero riserva tante sorprese e di cui spesso non sappiamo abbastanza. Ma andiamo con ordine, partiamo dall'ultimo lavoro, Dieghito e il centauro del nord. Chi era il centauro del nord? E questo è un libro, soprattutto sull'importanza della memoria, tramandata, in questo caso, da un nonno a una nipote che negli anni Ottanta racconta alla nipote chi fu il centauro del nord, e cioè Pancioviglia, che in realtà si chiamava Doroteo Arango e quindi inizia proprio dal perché aveva tanti nomi e cosa combinasse nella sua avventurosissima esistenza. Ecco, dicevo l'importanza della memoria, in questo caso iniziamo proprio con nonno Diego, l'abuelo Diego, che racconta alla nipote Adelita di quando lui aveva 12 anni e un giorno andando in giro per, diciamo, figlio di contadini del Chihuahua, questo stato del nord del Messico immenso perché da solo è più grande della Gran Bretagna, questo lo dice spesso nonno Diego, dice sì, io non sono mai andato all'estero, ma il Chihuahua è più vasto della Gran Bretagna, ce ne sono di cose da conoscere, da vedere in queste sue schermaglie, anche con la figlia, perché c'è anche una figlia, Manuela, insomma sono tre generazioni che si trasmettono a vicenda emozioni. Ecco, nella mia finzione narrativa ho inventato il personaggio di Diego che da ragazzino è Dieghito e che andando per una certa vicissitudine viene praticamente costretto dal destino, finisce dentro una grotta in cui c'è nascosto Pancioviglia che lui, che lo ammira, che lo considera il suo eroe popolare, il suo mito, chiama ancora il centauro del nord, e che per prima cosa gli punta un revolver sul naso perché non sa chi sia entrato nella caverna. Questo è il fatto storico realmente accaduto, cioè Pancioviglia nel 1916 rimase ferito gravemente a una gamba, gli rimase una pallottola sotto il ginocchio e riuscì a scappare per qualche giorno a cavallo, poi non riusciva più a stare in sella, il suo gruppo di fedelissimi che li faceva da scorta dovette lasciarlo, lui si infilò in una caverna promettendosi, non lasciatemi morire di sete e di fame, ma comunque andate e io proverò a resistere qui dentro. Passavano i giorni e le settimane e non potendo lui uscire, nella realtà storica sappiamo che dei ragazzini si intrufolavano in questa caverna per portare i viveri e soprattutto l'acqua da bere al centauro del nord. Nella mia storia è questo Dieghito che lo fa perché ha seguito di notte suo padre, che era quello addetto a non lasciare morire di sete Pancioviglia. E così si dipanano tante avventure nella memoria di questo nonno, che danno lo spunto per ricordare un aspetto meno conosciuto e meno tramandato di Pancioviglia, e cioè il grande educatore, nel senso che Pancioviglia fondò scuole, più che non caserme, fu ossessionato dall'alfabetizzazione dei giovani, stiamo parlando di un Messico nei primi anni venti, quando lui fonda una delle più grandi scuole poi riconosciute dallo Stato e poi di lì a un tot di anni viene assassinato in un agguato. Però ecco, era un difensore dell'alfabetismo a livelli ossessivi, fece moltissimo da questo punto di vista, per cui non è che svaliggiava solo banche, o sì, se lo faceva poi usava quei proventi per aprire scuole. Ebbe anche una parentesi da governatore, che durò poco tempo, governatore del Chihuahua, dove solo lui in quei pochi mesi aprì più scuole di tutti quelli venuti dopo per decenni. Ecco, questo è interessante perché è un aspetto sicuramente inedito di Pancioviglia, di cui dici si sa poco. In realtà è probabile che si sappia poco anche di questa figura, nel senso che la letteratura, che magari potrebbe restituirci degli aspetti più freschi, più, come dire, tridimensionali, no? Di questo personaggio, in realtà ce n'è poca, poco tradotta, fuori catalogo. Questo un po' ci porta ad aprire una parentesi, una riflessione sul valore, no? Della narrazione, del romanzo storico, della memoria, come dicevi appunto tu in apertura, e che probabilmente un po' si è perso, soprattutto rispetto alla letteratura di quell'area geografica. Quanta ne abbiamo oggi qui? Quanto è tradotta oggi in Italia? Io stesso che di mestiere faccio, anche o soprattutto il traduttore, sebbene negli ultimi tempi sto notando una crescente scarsità di lavoro in questo ambito, perché, traducendo io dallo spagnolo, devo registrare una diminuzione costante di testi, autori e autrici di lingua spagnola pubblicati in Italia. Per fortuna ce ne sono ancora non pochi, ma sono sempre meno, insomma, come numero. Ecco, ho un esempio concreto, ho avuto il grande piacere di tradurre, diversi anni fa, per l'editore Marco Tropea, purtroppo ormai scomparso, la biografia monumentale, la più approfondita che mai sia stata fatta, di Pancioviglia, a opera del comune amico Paco Ignacio Taibo II, che a Bologna tanti ricorderanno, perché viene spesso a fare le sue presentazioni. Ecco, anche lui un po' meno spesso, perché tanti dei suoi libri, che magari sono usciti, non si trovano più. La stessa biografia di Pancioviglia, che era qualcosa sulle 800 pagine, e che, ripeto, per me è stato un piacere avventuroso addentrarmi in questo testo, e a cui devo tutto, o molto, per aver ricostruito certe vicissitudini della vita di Pancioviglia, in questo mio libro minore, insomma. Però ecco, quella è fuori catalogo, quella biografia, sarebbe difficilissimo trovarla, per fortuna in tante biblioteche ci sarà, però così come questo piccolo grande esempio che ho fatto, tanti altri testi di autori, a volte poco noti, a volte molto celebri, usciti per qualche editore, magari di non grandi risorse, o anche per grandi editori, ma poi alla fine, una volta usciti dal catalogo, non sono più stati ristampati, tanta parte della cultura dell'America Latina sta facendo questa fine. Fortunatamente esistono le biblioteche per questo, insomma, perché non si perda nulla. Però ecco, noi abbiamo, noi tutti, insomma, abbiamo spesso una visione molto superficiale degli accadimenti dell'America Latina, quasi sempre legati agli eventi più disastrosi, o alle stragi e massacri, o a inondazioni, terremoti, sempre più raramente, vediamo approfondire invece questa, questa straordinaria e variegata cultura dove non solo ogni paese di questo immenso continente ha differenze enormi con gli altri, diversità che sono il sale della vita, poi le diversità, ma anche all'interno di ognuno di questi paesi, se si pensa che il Messico ha 70 etnie diverse con le loro rispettive lingue. E concludo tornando al pancioviglia, propugnatore dell'alfabetizzazione, ripete spesso nelle interviste, specie nell'ultimo periodo della sua vita, poi non lunga, perché a 45 anni lo ammazzarono, ripeteva spesso, questo sarà un paese civile quando un insegnante di scuola avrà uno stipendio pari o superiore a un generale dell'esercito. Che a mio avviso questa frase è universale, è utopica, ma lui intanto l'ha messo in pratica nel villaggio che divenne un paese, insomma, a Canutiglio, dove aveva fatto costruire una grande scuola, chiamava i migliori insegnanti anche dalla capitale federale, da città del Messico, e dava loro degli stipendi che tutti gli altri se li sognavano. Ecco, quindi davvero un aspetto... Certo aveva nascosto dei tesori, pancioviglia, però attinse a questi cofani sotto terra e elargì. Ecco, per metterli a disposizione di una causa che lui evidentemente reputava prioritaria. Prioritaria assoluta. Una riflessione evidentemente che è molto attuale. Parlavamo di spunti culturali rispetto all'America Latina che in realtà tu mescoli molto bene alla narrazione, al contesto storico, piccole spie luminose che nei tuoi libri è facile intercettare per appunto poter andare ad approfondire. Ad esempio le figure femminili a cui hai dedicato ampia parte dei tuoi lavori è anche un graphic novel, Mujeres, se non sbaglio. Con il compianto amico Stefano De Liveneri, uno dei più grandi illustratori che abbiamo avuto in Italia e comunque di fama internazionale, purtroppo prematuramente scomparso e ci ha lasciato questo testamento. cioè insomma le Mujeres degli anni 20-30 del Messico, in particolare di città del Messico, che riprendono vita grazie alle sue matite e ai suoi acquerelli. Ecco, è proprio su questo che mi piacerebbe soffermarmi, e cioè qual è la rivoluzione che hanno portato avanti le donne del Messico e diciamo pensiamo anche poi un pochino alla figura di Adelita che è piccola, però ascolta, quindi assorbe tutti i dettagli della memoria e poi in qualche modo è legata alla canzone popolare che ci rimanda a Ciavela Vargas, quindi un'altra grande interprete della cultura messicana. Ecco, quindi pensiamo alle grandi donne del Messico. Sì, è proprio così. Io ho inventato questa Adelita proprio in memoria di tutto ciò, tanto che quando diventa adulta diventa anche una cantante sulle orme di Ciavela Vargas e lei stessa si chiama Adelita perché la mamma e il nonno avevano in mente appunto la canzone forse più emblematica della rivoluzione messicana e perché Adelita era una soldadera, insomma, una rivoluzionaria. Ecco, questo aspetto ci ricollega al discorso che facevi poc'anzi perché del tanto che noi ignoriamo o conosciamo poco o superficialmente c'è questo aspetto che invece dovrebbe essere eclatante cioè la vera rivoluzione che venne fatta dalle donne negli anni venti in Messico che anticipò tutto ciò che noi dovremmo aspettare gli anni settanta del novecento per tutto ciò che è movimenti di liberazione della donna, pari opportunità, diritto a una sessualità qualunque essa sia. Questo sembra uno sproposito, in realtà tutto questo era già accaduto negli anni venti a città del Messico. Certo, non in tutto il Messico, certo c'era un Messico più oscurantista e retrivo che odiava proprio queste donne perché li sfidava. E noi abbiamo una miriade di donne, chiaramente la più famosa che è rimasta nella nostra memoria Frida Kahlo perché la sua arte si è propagata nel mondo. Per fortuna oggi anche Tina Modotti che fu parte di quelle donne pur non essendo nata in Messico. Ma lì sviluppò tutta la sua arte fotografica e la parte più luminosa della sua esistenza. E via via tantissime altre, Naui Olin, Nelly Campobeio che fu scrittrice, che ci ha lasciato, ma li troviamo solo in Messico, i racconti forse più più incisivi su cosa fu la rivoluzione, di vita vissuta quotidiana da parte di contadini, di rivoluzionari e ribelli e così via tante altre, Antonietta Rivas Mercado che ha fondato il teatro moderno a Città del Messico. Di tutte queste il Messico ne conserva memoria. Nel mio piccolo ci ho provato con i miei libri, ma sì, non solo in Italia, ma in Europa, a parte, ecco, Tina Modotti, Frida Kahlo, però continuiamo a sapere poco riguardo quanto fu fondamentale la loro esistenza, la loro lotta e tutto ciò che ottennero. Basti pensare che il termine femminismo nacque in Messico con le ligas feministas del 1919. Dubito che in Europa qualcuno usasse la parola femminismo nel 1919. In Italia avevamo altri problemi, in Germania ben presto sarebbero diventati la tragedia della storia dell'umanità e quindi tutto questo è un peccato dimenticarlo o ignorarlo. Però ecco, ci sono infiniti aspetti dell'importanza che ebbero queste donne che se sono state poi dimenticate in fretta perché dobbiamo sapere che nonostante allora non ci fossero le televisioni, non ci fossero quasi neanche le radio o comunque non molto diffuse, c'erano al massimo dei giornali, delle gazzette, però questa cosa che stava succedendo a Città del Messico dovette propagarsi nel mondo perché arrivarono intellettuali dagli Stati Uniti intellettuali insomma non si consideravano tali ma erano le menti più fervide di Stati Uniti Europa persino dal Giappone e dall'India arrivarono poeti e scrittori e scrittrici e fotografi e fotografi insomma registi Eisenstein per esempio chi disse a Eisenstein guarda che bisogna andare a vedere cosa successe cosa sta succedendo a Città del Messico questa voce si propagò tanto che Città del Messico diventò negli anni 20 il centro di attrazione della migliore creatività poco importa l'aspetto politico non è che fossero tutti rivoluzionari Edward Weston che è entrato nella storia mondiale della fotografia non aveva neanche tante idee di sinistra anzi era essenzialmente un amareggiato nei confronti dell'esistente però ci ha lasciato delle foto ecco quindi la matrice culturale di questa rivoluzione tutti questi che confluivano ma fu perché c'erano queste donne che stavano facendo qualcosa che gli altri sentivano il bisogno bisogno di andare a vedere come si viveva Città del Messico quindi insomma davvero un faro un capitolo della storia umana che andrebbe rivitalizzato ricordato eccetera per questo appunto i romanzi storici sono molto importanti ed è anche importante continuare la narrazione adesso si usa questo termine storytelling proprio per mettendo al centro queste figure per chiudere la parentesi sul libro dedicato a Panciovia vorrei che tu ci raccontassi un aneddoto legato proprio alle spoglie mortali se così possiamo dire di Panciovia perché è davvero molto interessante questo fa parte di una nostra chiacchierata off record che però secondo me diciamo è un po' splatter ma sicuramente interessante è splatter e ci dice anche qualcosa su certi personaggi di questi ingombranti vicini che il Messico ha più a nord ingombranti a volte prepotenti visto che insomma poi Panciovia in questa storia è realmente accaduta era braccato proprio dalla spedizione punitiva del generale Pershing ma di cui faceva parte e diventa anche un personaggio della nostra storia di Dieghito il giovane tenente Patton George Patton che diventerà il generale dello sbarco in Normandia ecco invece tornando a quell'aneddoto quando Panciovia rimase ucciso in questo agguato di sicari inviati sicuramente dal governo ma ma anche caldeggiati caldeggiato questo attentato dal dall'ambasciatore degli Stati Uniti perché volevano fargliela pagare in quanto Panciovia li aveva sfidati eppure Panciovia era anche molto amato negli Stati Uniti perché mandarono delle truppe cinematografiche purtroppo quasi tutte quelle bobine andarono perdute ma esistono ancora molti filmati dell'epoca quindi insomma un rapporto schizofrenico con gli Stati Uniti però viene ucciso viene sepolto in una tomba a Parral nel Chihuahua passano gli anni non tantissimi e qualcuno di sotterra quello che ormai doveva essere uno scheletro stacca il teschio e non si è mai più ritrovato ma molti hanno fatto indagini e ricerche e anche da alcuni documenti dell'Università di Yale insomma tutto questo su tutto questo ha indagato anche Paco Taibo non lo dà per certo perché come dice lui o come si dice spesso in Messico non importa se una storia sia vera o falsa ciò che conta è che sia ben raccontata allora questa storia molto romanzesca e molto splatter fa sì che i fili riconducano a uno che di cognome faceva Bush e che era credo il nonno di Bush senior presidente degli Stati Uniti che faceva parte di una confraternita universitaria che non si era spenta l'eco di Pancioviglia che per scommessa cosa facciamo andiamo a prendere la testa di Pancioviglia quindi scesero in Messico si sbronzarono chissà quante volte chissà quanto erano sbronzi quella notte ovviamente era un cimitero così un piccolo cimitero di provincia dimenticato non c'era nessuno a sorvegliarlo fu facile però ecco chissà se è vera però è incredibile che il nonno di Bush è molto suggestivo insomma senz'altro rimane qualcosa nei registri dell'università cioè si sa che questo nonno Bush faceva parte di questa confraternita che si chiamavano proprio credo schools and bones insomma teschi e ossa quindi diciamo che a livello tematico per il loro simbolo andarono a prendersi la testa di Pancioviglia bene quindi insomma davvero è un racconto suggestivo che però in qualche modo alimenta poi la narrazione epica del personaggio di Panciovia si e ci ricorda anche che quelli lassù non hanno rispetto per niente per nessuno neanche per le povere ossa beh insomma questo diciamo rientra poi in un contesto se vogliamo anche goliardico ah sicuramente fu per loro un'impresa goliardica un'impresa goliardica che diciamo magari ecco non è proprio una cosa bellissima da fare però appunto era un aneddoto quanto meno diciamo degno di nota tra i tuoi racconti perché appunto dicevamo no una storia vera falsa non importa purché sia ben raccontata i tuoi racconti sono sempre davvero ben strutturati e appassionano questa volta appunto vorrei che tu ricordassi con noi il tuo grande amico Luis Sepulveda scomparso nel 2020 che evidentemente insomma manca manca al mondo della letteratura internazionale manca ai suoi amici tra cui naturalmente ci sei anche tu la sua vita in qualche modo è epica è degna di una narrazione di un racconto importante tu hai conosciuto lo scrittore ma hai conosciuto l'uomo Lucio eh sì che amava ripetere prima si vive poi si scrive poi si narra cioè che condensava e anche poi usava la frase narrare e resistere che era mutuata da un poeta credo Ghimaraes Rosas e Lucio sì ha avuto una vita suo malgrado perché non non si era andato a cercare sventure e avventure ma essendo essendo stato la più giovane guardia del corpo del presidente Salvador Allende si ritrovò torturato per molto tempo praticamente sepolto vivo in un buco sottoterra e così via venne salvato da Amnesty International soprattutto dalla sede tedesca di Amnesty svedese anche di Amnesty International perché a volte succede che la letteratura salva la vita lui aveva pubblicato dei racconti che avevano vinto il premio Casas della Samericas e quindi gli avevano dato una certa notorietà pur giovanissimo poesie erano soprattutto ma anche racconti e quindi Amnesty cominciò a esigere dalla dittatura cilena una risposta alla domanda che fino ha fatto il giovane scrittore Luis Sepulveda che fino ha fatto che fino ha fatto alla fine divenne una rottura di scatole per Pinochet avere questo prigioniero non finirono di ammazzarlo ma insomma lo spedirono a calci su un aero letteralmente a calci perché infatti lui amava ricordare io sono stato cacciato a calci dalla mia patria e poi continuò con avventure o disavventure da esule da cui scaturirono i suoi romanzi memorabili soprattutto quello che è diventato mondialmente noto il vecchio che leggeva romanzi d'amore perché ebbe questa lunga permanenza tra gli indios shuar della foresta amazzonica nella parte dell'Ecuador da cui scaturì poi questo personaggio del vecchio che leggeva romanzi d'amore insomma prima si vive e poi si racconta ecco era il suo motto e lo ha messo in pratica tutta la vita e ogni giorno con le cose che succedono in questa orribile epoca di incessanti massacri ogni giorno mi manca il parere di Luis Sepulveda che era prezioso per me ma per molti anche ecco sicuramente avrebbe scritto cosa ne pensi di quello che succede lì cosa avrebbe cosa avrebbe detto l'intervento ma degli sanottamenti chiamiamoli così politici che stanno sconvolgendo il mondo in questo microfono ecco abbiamo un problema con il microfono questo come si dice in questi momenti è passato lo spirito di Sepulveda ha interrotto un attimo a spostare il mio microfono naturalmente insomma era una persona prima di tutto molto umana molto gentile gentile in ogni momento della della sua vita e tu con lui insomma hai condiviso anche la semplicità dei momenti da trascorrere tra amici così come le grandi riflessioni sul nostro tempo sì perché dopo tanto peregrinare dopo essersi risposato col primo amore cioè con la poetessa Carmen Iannes decisero di andare a vivere a Gijón nelle Asturie che è una cittadina insomma non è molto grande ma bellissima con due mari insomma porto e piove spesso lui infatti quando quando passò lì due o tre giorni in cui piove poco per due o tre giorni pensò ecco questo è il posto che mi piace odiava il sole e il caldo gli piaceva la Patagonia la terra del fuoco per cui in qualche maniera trovò un clima consono alle sue passioni e lì aveva trovato una casa che era fatta per gli amici cioè era concepita per ospitare amici lui era poi leggendario alla griglia faceva queste grigliate in cui anche dopo prima o dopo raccontava le differenze fra come fa la grigliata un argentino e come la fa un cileno perché si contendono il primato e quindi e quindi insomma lui diceva innanzitutto il cileno che fa la grigliata sta zitto gli argentini parlano incessantemente ma noi cileni mentre facciamo questo dobbiamo pensare a livello di cottura giusto per cui non c'è tempo per chiacchierare aneddoti così insomma ecco Lucio tante persone che lo hanno visto solo esteriormente come dire che o che mi hanno raccontato l'impressione iniziale sembrava un po' burbero sembrava sulle sue beh certo aveva un carattere temprato dalle difficoltà e sì temprato dal fatto che aveva attraversato l'inferno e non si resta indenne dopo aver attraversato l'inferno ma anche con le persone sconosciute o con chi lo intervistava era sufficiente introdursi per 5 10 minuti in qualche argomento e poi si scopriva di quale generosità fosse di quale affabilità insomma ancor più con le persone amiche quindi erano memorabili queste serate nottate a chiacchierare di tutto nella sua grande casa che aveva chiamato la Croce del Sud che è la costellazione della Terra del Fuoco e della Patagonia un richiamo proprio con un pezzo di cuore e Pino grazie per questi racconti per aver condiviso un po' tutto il tuo universo un piacere per me ricordare tutto questo dobbiamo però dare un appuntamento perché appunto stai presentando il nuovo libro quindi diamo un appuntamento per chi volesse venire a incontrarti durante una di queste presentazioni qui a Bologna l'appuntamento è per? martedì 20 febbraio alle 18 siamo in Sala Borsa e chiacchiereremo con Alberto Bertoni docente universitario proprio di letterature ma soprattutto un grande poeta e ancora più soprattutto un vecchio amico quindi chiacchiereremo di Dieghito e il Centauro del Nord con Alberto Bertoni alle 18 alla Sala Borsa martedì 20 bene grazie grazie ancora per essere stato con noi grazie a voi un saluto a tutte e a tutti noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità torniamo subito dopo la pausa tra poco